in tutti questi anni non ho fatto che studiare studiare senza mai avere una vita mia e mi domando a quale scopo dubito che qualcuno possa vederti come devata moglie e madre non permetterò ad alcuna donna di insegnare o di dominare sull'uomo voglio invece che stia in silenzio ma per quanto mi risulta il vostro dio non ha ancora dimostrato di essere più giusto o più pietoso dei suoi predecessori oggi i cristiani hanno bruciato un uomo io non voglio questa nella mia casa fratelli il signore è con noi sono cristiano sono cristiano ma da quando ci sono così tanti cristiani se tu non sei d'accordo io non potrò più proteggerti a gura a a a